Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese e Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in questo giovedì mattina 2 novembre. In A1 possibili disagi per mezzo pesante e fermo o in avaria verso nord tra Calenzano e Pio 1 variante. In A11 possibili disagi per i spostamenti mattutini tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola e tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 tutto verso Firenze. In Fipilì stessa situazione tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione del capoluogo. Siamo al traffico urbano di Firenze e segnaliamo che via Carlo Burci è temporaneamente chiusa per soste irregolari con blocco temporaneo della circolazione. Aversi in Toscana in Fio è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Aversi in Toscana, Città metropolitana di Firenze